Ciao ragazzi e per la prima volta mi accingo a parlarvi di un manga erotico, più precisamente di un Echi. Ecco a voi Nana e Kaoru Black Label, appena uscito con Planet Manga che ci darà compagnia per 5 volumi. Perché iniziare a parlare di Echi con Nana e Kaoru? Perché ragazzi il fumetto erotico giapponese ha radici culturali profonde, secoli e secoli di stampe underground a tema erotico. Ad iniziare dagli Shunga, nati nel periodo Edo, che sono delle illustrazioni esplicite a tema erotico, famosissime ancora oggi. Purtroppo non posso mostrarvele perché, anche se si tratta comunque di disegni, hanno contenuti molto espliciti. Gli Shunga erano popolarissimi, i samurai li portavano con sé perché dicevano che portavano fortuna. Bella furbata per giustificarsi, uno dice ma che c'ha i fumetti porno? No, no, ma questi li porto come portafortuna. Meraviglioso proprio, oltre il genio. Oppure venivano regalati ai giovani promessi sposi come una sorta di manuale per spiegargli insomma come si faceva. Alla base degli Shunga c'era anche una vera e propria filosofia, simile al nostro Carpe Diem, quello d'Orazio. Denominata de Lukio, cioè del mondo fluttuante. Per spiegare tale filosofia, lo scrittore Asai Ryoi usò l'immagine di una zucca vuota che galleggia in un fiume e si lascia trascinare dalla corrente. Sotto questo punto di vista gli Shunga ci appaiono come un invito ad abbandonarci ai piaceri e alle sensazioni carnali. Tutto questo ebbe un'evoluzione nella cultura underground nipponica negli anni 30 con gli Eroguro. Un movimento culturale che si è sviluppato principalmente nella letteratura e nell'arte. Questo movimento era caratterizzato dalla fusione dell'erotismo degli Shunga con un'estetica grottesca, a tratti macabra o addirittura completamente nonsense. E dalle Eroguro prende spunto questa delicata commedia sexy, Nana e Kaoru. Lo si capisce già dalle prime pagine, quando ci vengono presentati i quattro protagonisti. Due coppie, una formata da un uomo un po' avanti con l'età e da una donna più giovane. E l'altra formata da due ragazzi in procinto di iniziare gli studi universitari, che appunto si chiamano Nana e Kaoru. Io appena ho visto Sarashima, l'uomo avanti con l'età, che nella storia è un noto scrittore di romanzi a tema BDSM, Sadomaso, Bondage, sta roba qua, mi è subito venuto in mente il mitico Sensei Oniro Kudan, celebre scrittore di romanzi BDSM giapponese scomparso nel 2011, sconosciuto in occidente ma conosciutissimo nel sollevante. Lui era un vero eccentrico, ha una biografia incredibile. Sarashima gli somiglia talmente tanto che l'autore del manga Ryuta Amazume ha dovuto mettere le mani avanti dicendo che il suo personaggio non è Oniro Kudan. Veniamo al manga in questione. Nella storia troviamo Nana e Kaoru, due amici di infanzia che, pur non essendo ufficialmente fidanzati, per gioco avevano già provato a realizzare delle pratiche BDSM. Per caso Kaoru fa la conoscenza di Sarashina, lo scrittore fetish da cui lui trae ispirazione e che ammira a dismisura. Nana conosce invece Tachibana, compagna di Sarashina che lavora in un sexy shop. Lo scrittore e la sexy commessa provano immediatamente una grande simpatia per quei due ragazzi e li invitano a passare le vacanze nella loro casa in campagna. Dove lo scrittore, scosso dall'ammirazione che il giovane Kaoru prova per lui, si metterà subito all'opera per un nuovo romanzo. Come avrete capito, nella casa in campagna accadrà un po' di tutto. Attraverso l'osservazione della coppia più matura, i ragazzi inizieranno a conoscere meglio se stessi, a dare un senso alle proprie pulsioni di cui un po' si vergognavano. L'ambientazione di una vecchia casa in campagna è perfetta, perché rende l'idea di quello che sta succedendo, cioè due ragazzi che decidono di prendersi una pausa dalla vita frenetica da studente, piena di ansie e preoccupazioni, per conoscere meglio se stessi e il proprio corpo. Nonostante parli di BDSM, il fumetto riesce a toccare certi argomenti con grazia e l'introspezione dei protagonisti la fa da padrona, oltre a tante scene osè. Infatti, una particolarità del manga è che c'è veramente tanto, tanto testo. A volte sembra quasi di leggere un romanzo invece che un fumetto. Questo può essere un punto di forza o un punto di demerito, dipende dai vostri gusti. C'è a chi i manga con tanto testo piacciono e a chi no. Le pratiche erotiche che vediamo in atto in questo primo volume hanno a che fare con lo shibari, una tecnica di legatura che risale al periodo Edo. Sì, anche questa, nel periodo Edo si vede che ci si divertiva parecchio. Lo shibari si pratica con una legatura fatta di innumerevoli nodi. Chi viene legato sembra quasi avvolto da una ragnatela, infatti è di grande impatto visivo. Viene da lo jujutsu, che era una tecnica con cui venivano legati i prigionieri e ancora oggi è molto ricorrente nell'arte erotica giapponese, in ogni sua forma. In realtà si usa più nell'arte, nella fotografia che nella vita reale, anche perché deve essere fatta da mani esperte, altrimenti ti puoi fare male. Con sta cosa non si scherza, quindi non provate a farlo per nessun motivo, perché è pericoloso, mi raccomando. In Nana e Kaoru Black Label, lo shibari offre la possibilità al sensei Yamazume di fare vedere la sua maestria nel disegno, soprattutto per quanto riguarda la fisicità femminile. Purtroppo non posso mostrarveli per ovvie ragioni, ma fidatevi, sono veramente accurati. Se avete voglia di tuffarvi nella tradizione erotica giapponese, con una storia dolce e introspettiva, questo manga fa al caso vostro. Vi ricordo che non è un entai, non ci sono scene di sesso esplicite, ma comunque rimane raccomandato ad un pubblico maggiorenne. Tecnicamente il fumetto è uno spin-off di Nana e Kaoru, una serie più lunga, che racconta le prime esperienze amatoriali dei due ragazzi col BDSM. Ma non c'è praticamente nessun riferimento alla prima serie, quindi Nana e Kaoru Black Label si può leggere tranquillamente senza aver letto Nana e Kaoru. Anzi, sinceramente, questo spin-off mi è sembrato molto più bello della prima serie. Vi consiglio di iniziare con questo. Poi, se due protagonisti entreranno nei vostri cuori, magari potrete recuperare anche la prima serie. E anche questa volta spero di aver stuzzicato la vostra curiosità e noi ci vediamo alla prossima Never Be Game Over!